Avranno inizio oggi le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso, patrono della città di Gela insieme a Maria Santissima dell'Alemanna. Secondo gli atti del processo conservato nell'archivio generale della Curia dei Carmelitani di Roma e dell'Arcidiocesi di Catania, era il 27 marzo del 1602 quando il simulacro di stile bizantino portato dai marinai terranovesi dalla Magna Grecia iniziò a trasudare ininterrottamente sangue e acqua per cinque giorni davanti a migliaia di fedeli accorsi nella chiesa del Carmine. Diversi anni dopo, l'11 gennaio del 1693, un tremendo terremoto distrusse gran parte della Sicilia e Gela. Allora Terra Nova fu risparmiata insieme ad alcuni paesi vicini. In seguito a quest'avvenimento, l'8 marzo di quello stesso anno, il popolo gelese elesse patroni della città il Santissimo Crocifisso e Maria Santissima d'Alemanna. Per commemorare questa ricorrenza, anche quest'anno, come da tradizione, si svolgerà il triduo di preparazione con il canto della coroncina e la celebrazione eucaristica. Il triduo sarà predicato da Don Antonino Rivoli, vicario episcopale per la liturgia della diocesi di Piazza Armerina e docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Sturzo, sabato, saranno presenti alla celebrazione i marinai che venerano il Santissimo Crocifisso come speciale protettore e domeniche i cavalieri del Santo Sepolcro della sezione di Piazza Armerina. Lunedì 11, giorno della festa, seguiranno le messe delle 6, delle 8 e delle 9, alle 10.30 il solenne pontificale presieduto dal vescovo Monsignor Rosario Gisana, alle 12 la messa con il canto del Tedeum, alle 15 l'adorazione della croce, alle 17 e alle 18.30 le altre celebrazioni liturgiche. A conclusione, i fuochi pirotecnici.